Ciao ragazzi, io sono Antonello Fiamma e ho un po' di news da darvi La prima, nonché più importante, il 15 dicembre 2017 su tutti i digital store al mondo Sarà ufficialmente disponibile lui, Imperfessions, il mio nuovo album Secondo album da solista, contenente esattamente ben 9 tracce Di cui 8 inediti e un arrangiamento, Who Wants To Live Forever, The Queen Sono molto contento di questo lavoro, devo ringraziare tante persone Stefano Barone per la produzione artistica, Eugenio Latta per il mix, il master I Queen per aver scritto quel bellissimo brano di cui ho fatto l'arrangiamento E Maneli Jamal, che è un chitarrista fantastico che vive in Canada Con cui abbiamo fatto tanti concerti insieme Ed è presente in questo disco, in una collaborazione, un brano che abbiamo scritto insieme E' già uscito il video di questo brano, Mirrors, che lo trovate su tutti i miei canali Sulla mia pagina Facebook, Antonello Fiamma Artist Page E su YouTube, sul mio canale YouTube, Antonello Fiamma E niente, io sono davvero soddisfatto di questo lavoro Non vedo l'ora di condividerlo con voi I dischi sono arrivati da poco Sto già iniziando a inviare tutti i preordini che ho avuto sul mio sito Ah, tra l'altro su www.antonellofiamma.com Potete ordinarlo, vi arriva direttamente a casa Fatemi sapere che ve ne pare una volta che lo ascolterete Che sia in un live o nel vostro stereo Oppure su Spotify e vari digital stores Grazie per il supporto costante che ricevo Seguite la pagina e i miei canali per sapere dove suonerò Perché questo disco nel 2018 sarà presentato in una serie di concerti In un tour invernale per ora di dati in Italia, anche in Germania E basta, tutto qua Grazie ancora E mi approfitto per augurarvi buon Natale e buone feste a tutti Grazie a tutti